rapinone a mano armatone in quel di verona è stata truffata clamorosamente è una cosa scandalosa l'inter fc internazionale da quel ladro subdolo il lupen dei giorni nostri un certo giuntoli giuntolone nazionale si fotte anche caballo cioè io adesso c'è poco da ridere si ride non si ride non si ride però io mi immagino l'interistone no e lì che dice adesso i colombiani parlo con la colombi e poi giuntolone quel maledetto ti fa vedere ah non lo so però vuoi dire a brutto un pochino un pochino tutto questo ma chi cazzo è il caballo non lo so terzino del verone giocherà mai nella juve penso proprio di sì ma cosa ce ne frega l'importante è averlo fottuto all'inter cioè è quello cioè hai capito io vedo l'interista che scende scusi mi fa un caffè ragazzetta ah ma c'ha cianciulato caballo cianciulato caballo di quella troia scusi scusi porca di quella troia me lo vedo così l'interista lo immagino grossolanamente così comunque raga giuntolone nazionale terzino che lo scopriremo solo vivendo can si cantava giuntolone fa un'altra scippo a ciel sereno e l'interista rosica fabio bergo mio ci aveva fatto il tweet fonte sicura ha già firmato per lì non posso ancora ridere bene e purtroppo ancora la cazzo di tosse sì ma finita la tosse rega ce ne faremo di disatte comunque un bacio nel doc iscrivetevi